La polizia ha trovato una piantagione di marijuana a Mongiana. Ieri gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Serra San Bruno hanno rinvenuto a Mongiana una piantagione di marijuana composta da 100 esemplari dell'altezza media di 2 metri. La piantagione, occultata tra la fitta vegetazione di un'impervia zona boschiva delimitata da una recinzione per imperirne l'accesso agli estranei, era alimentata da un sofisticato impianto di irrigazione a goccia. L'operazione ha consentito di sottrarre dal mercato illecito un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a più di 50.000 euro. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Operazione dei carabinieri, massima allerta della procura vibonese a difesa del patrimonio ambientale. Calcinacci derivati da opere di demolizione edile, di lavorazione del marmo, residui di pavimentazione, rifiuti cimiteriali, lapidi e parti di esse, con tanto di mezzo pesante pronto all'opera e non solo. Questo è quanto scoperto dai carabinieri di Santo Nofrio e della stazione forestale di Vibo Valencia al termine di un controllo ad un'azienda agricola sita nel cuore delle aree rurali di Stefanaconi. Un quadro paesaggistico perfetto se non fosse per la moltitudine di reati ambientali riscontrati, non limitati tra l'altro alla solo discarica, ma anche alla tenuta degli animali d'allevamento, trovati in condizioni non compatibili con la loro natura, poiché custoditi in reciti angusti ed in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. Per loro così è scattata subito da parte dei veterinari l'intimazione per l'immediata pulizia straordinaria e l'adeguamento alla normativa in materia di allevamento. L'attenzione del procuratore Camillo Falvo resta alta per garantire la salute del territorio, mirata soprattutto al controllo capillare delle aziende e delle discariche. Per questo motivo la perlustazione delle aree più impervie già prerogativa delle stazioni dei carabinieri è oggi più che mai indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalla procura di Vibbo, e cioè la bonifica dell'intera provincia di Vibbo-Valenzia. Per l'ottenimento del risultato le stazioni operano in simbiosi con i reparti speciali dell'arma, quali NAS, NIL e l'ottavo nucleo elicotteri, fondamentale quest'ultimo per la pianificazione delle azioni operative da intraprendere a terra e la stesura della mappatura del territorio, volta alla individuazione delle aree maggiormente sensibili a rischio di inquinamento. Bonifica del territorio e quindi ripristino dello Stato dei luoghi, questo il provvedimento adottato nei confronti del titolare dell'azienda controllata dai carabinieri con il coordinamento del sostituto procuratore Maria Cecilia Rebecchi, la quale ha disposto il sequestro dei 130 metri cubi di rifiuti speciali trovati, previ a campionatura e analisi da parte dei tecnici dell'ARPACAL. Al titolare dell'azienda è stata anche contestata la detenzione illecita di parti di fauna selvatica protetta dalla Convenzione di Washington. Nello specifico, durante le operazioni di controllo è stata rinvenuta una zanna di elefante africano, specie protetta ed in via di estinzione intagliata per un valore di circa 150 mila euro. La zanna è stata affidata in custodia ai carabinieri forestali CITES di Reggio Calabria per la successiva confisca e donazione a musei o scuole. Per Teleionio Bruno Cirillo Notte di incendi, caldo e aria irrespirabile anche in provincia di Catanzaro, allarme per la pineta di Siano. È stata una nottata di incendi, caldo e aria irrespirabile in varie zone di Catanzaro e della provincia. Sono numerosi i roghi attivi nel comprensorio e in qualche caso potenziale pericolo per le stesse abitazioni. Sono state diverse le segnalazioni di persone che hanno deciso nottetempo di abbandonare la propria residenza per la paura delle fiamme. Problemi a Borgia, dove ieri sera lo stesso sindaco Elisa Sacco aveva avvisato la popolazione di alcune frazioni di tenersi pronta per eventuali evacuazioni. Situazione critica anche a Zagarise, fiamme in una pineta e anche nei pressi del cimitero, anche in questo caso a due passi dalle case. Una cappa di fumo avvolge anche il capoluogo con fuliggini che si depositano sulle auto, anche in zone lontane dalle fiamme. In particolare preoccupa il focolaio che è ancora attivo nella pineta di Siano, uno dei polmoni verdi della città. Secondo segnalazioni i fiamme sono piuttosto vicine alle abitazioni. E proprio dalla pineta di Siano arriva il fuoco che ha interessato la zona di Semericrichi nella notte, dopo che nella serata di ieri pareva essere domato ampio impiego di mezzi e uomini dei vigili del fuoco e Calabria Verde con l'ausilio anche di Canader. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Ritornano i piromani e la montagna di Badolato continua a bruciare. In azione i Canader, incendi sistematici con obiettivi e interessi ben precisi. Non sono bastati dieci giorni per spegnere i numerosi incendi che si sono sviluppati sulle colline coltivate e sulle montagne dei comuni del Basso Ionio. Infatti dopo un giorno di sosta senza incendi, ieri sulle montagne di Badolato per i numerosi focolai, sono ritornati i Canader, che per diverse ore hanno fatto spola tra il Mar Ionio e le zone montane di Badolato. Il comune che ha subito diversi incendi con centinaia di ettari bruciati, favoriti anche dal forte vento e dall'AFA. In fumo anche oliveti, vigneti, macchia mediterranea, culture varie, con danni incalcolabili per i contadini e piccoli imprenditori di aziende agricole che hanno visto andare in fumo anni di sacrifici economici, danni notevoli anche a casolari e animali. In attesa della convocazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del versante ionico di Isca, richiesta dai sindaci per fare il punto sui danni provocati dagli incendi e chiedere lo stato di calamità naturale, ingenti le forze in campo, vigili del fuoco, calabria verde, protezione civile, volontari, elicotteri e canader, con notevolissime spese per la Regione Calabria. Da questi interventi, hanno precisato alcuni sindaci, sono emersi gravi responsabilità da vari enti preposti alla salvaguardia e prevenzione del territorio. Bisogna iniziare da subito interventi per evitare ulteriori distesti idrogeologici. Adesso siamo preoccupati per quanto possa succedere con le piogge torrenziali dei prossimi mesi. Siamo preoccupati anche per l'abbandono in cui versano gli alvei dei fiumi che possono provocare pericolose bombe d'acqua, da qui la richiesta di interventi immediati. Nei giorni scorsi, preoccupazioni sono state espresse dal Presidente dell'Unione, Luigi Aloisio. Secondo me, ha detto Aloisio, il tutto non è stato provocato dai soliti piromani, ma anche da un progetto sistematico con obiettivi e interessi ben precisi. Sugli incendi bisogna registrare anche l'intervento del consigliere regionale, Luigi Tassone, che ha espresso la sua vicinanza alle popolazioni e interventi immediati. Interventi immediati per evitare il distesso idriologico sono stati analizzati dal geologo Badolatese Domenico Trapasso. Sequestro del depuratore e il vice sindaco di Soverato si tratta dell'impianto che serve altri comuni di cui è capofila Montepaone. La replica del vice sindaco di Soverato Daniele Vacca in merito al sequestro del depuratore consortile di Soverato. Il 10 agosto testate giornalistiche locali ed anche il Tg3 regionale hanno annunciato con grande enfasi il sequestro del depuratore del comune di Soverato. È doveroso ed indispensabile precisare che non si tratta del depuratore del comune di Soverato sito in località Corvo, bensì del depuratore che serve altri comuni, il cui capofila è il comune di Montepaone, che non riguarda quindi la gestione del comune di Soverato. Il 99% delle utenze esistenti nel comune di Soverato sono collettati al depuratore consortile situato in località Corvo funzionante e che monitoriamo quotidianamente. L'episodio, già di per sé grave per la tutela dell'ambiente e del nostro patrimonio naturalistico, va condannato e punito se ricorrono i presupposti nelle opportune sedi. Di contro però questa informazione imprecisa e fuorviante, lasciando intendere che il depuratore sia gestito dal comune di Soverato, trova forse altre motivazioni che a dire dello scrivente è quello di infangare il nome della città di Soverato, che ormai da qualche tempo è diventata una delle mete più ambite. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Stalletti non teme la penuria d'acqua, attivato nuovo pozzo artesiano. Sul sequestro del depuratore consortile di località Pasquali a Montepaone Lido sono stato informato con una nota del comune, ha sottolineato il sindaco Alfonso Mercurio, perché la normativa prevede che in caso di controlli siano riscontrate anomalie, si procede in casi gravi alla diffida alla ditta di manutenzione, a ripristino delle condizioni ottimali. Un'estate comunque che, oltre al caldo torrido di queste ore, si registra una positività. L'aumento di approvvigionamento idrico è stato migliorato con la messa in funzione di un nuovo pozzo artesiano in località Sant'Antonio, che ha portato 4 litri di acqua al secondo. La notizia ci è stata comunicata direttamente dal sindaco Alfonso Mercurio, che grazie ad una determina di somma urgenza, ha impegnato la somma di 30.000 euro, somma che ha portato a realizzare un nuovo pozzo. Completata l'opera, sono stati fatti i dovuti prelievi e analisi da parte di un laboratorio specializzato convenzionato con il comune, con risultati ottimi per cui si è potuto immettere il prezioso liquido nel serbatoio comunale. Oggi siamo soddisfatti, ha rilevato il sindaco Alfonso Mercurio, perché in emergenza abbiamo risolto il problema idrico, per cui ora riusciamo a garantire il prezioso liquido a tutta la popolazione, frazioni comprese, oltre ai 6-7 litri il secondo concessi dalla Sorical. Sul piano idrico comunque l'amministrazione comunale promette battaglia, infatti è già allo studio un progetto per la riqualificazione dell'intera rete idrica e nuovo serbatoio per quasi un milione e mezzo di euro, tramite i fondi nazionali stanziati con il piano di resilienza governativo, per cui nei prossimi mesi si tornerà a parlare di acqua. Per Sele Ionio, Anna Maria Colabraro. Mancati i pagamenti dall'ASP, Domus Aurea a rischio default. 20 mesi di mancato incasso stanno trascinando la Domus Aurea sull'orlo del fallimento. La casa di riposo, divenuta in Calabria la prima struttura focolaio da coronavirus, con le morti di anziani ricoverati, rischia il default. Una possibilità sempre più concreta. Da qui l'appello che la proprietà della struttura sociosanitaria di Via Filangeri, attraverso l'amministratore unico Domenico De Santis, ha lanciato dopo i diversi incontri che si sono tenuti nelle sede dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Confronti finalizzati, appunto, ad avere contezza per quanto concerne le spettanze riferito al primo trimestre del 2020, prima dell'attacco pandemico e ovviamente a mantenere in piedi il rapporto contrattuale con l'Asp, per quanto riguarda la convenzione necessaria per l'accreditamento della stessa con la Regione Calabria. Le tappe di Lamezia Terme, prima e a Catanzaro poi, non hanno portato ad alcun risultato utile per la Domus Aurea. Per questo motivo Domenico De Santis si è rivolto direttamente alla Procura della Repubblica di Catanzaro e alla Guardia di Finanza della città capoluogo, per tentare di capire le regioni del blackout con la triade commissariale dell'Asp, guidata dall'ex prefetta di Catanzaro, Luisa Latella, che secondo De Santis non riesce a dare risposte per quanto riguarda le argomentazioni portate sul tavolo della discussione, ovvero rispetto dei pagamenti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. È quello che in questo momento è necessario per la Domus Aurea la ripresa dell'attività in regime di convenzione. Nonostante le sentenze a favore della Domus Aurea, dice Domenico De Santis, non riusciamo a capire perché non si ottemperi a quanto disposto dai giudizi. Abbiamo ancora fatture da saldare e nessuno ci dice le motivazioni del diniego ai pagamenti. È una situazione davvero paradossale dal punto di vista dei rapporti istituzionali che stanno mettendo in ginocchio la struttura ai dipendenti che non hanno garantito il salario. Un escamotage fantasioso della sospensione del liter di formazione del contratto che riguardava il periodo prima dell'attacco del Covid. Di fatto ha bloccato tutte le nostre attività con le conseguenze note a tutti. La reazione della proprietà della Domus Aurea arriva mentre proprio ieri la direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale avrebbe ribadito le motivazioni affermate dai legali nel corso dell'ultimo incontro. Non hanno voluto incontrarci, si sfoga così Domenico De Santis, punendoci per essere stati retti e onesti per aver denunciato e aver richiesto l'intervento dell'Asp al primo campanello di allarme della possibile presenza del Covid nelle nostre strutture, divenuta poi realtà. Sant'Anna, ripartenza difficile, le risorse ancora scarseggiano. Se il pignoramento fosse sospeso i fondi resterebbero comunque congelati e il succo dell'ultima doccia fredda piombata sul Sant'Anna Hospital che rinvia ormai senza alternative al 4 novembre ogni decisione su un provvedimento che vale 17,5 milioni di euro. La misura eseguita dall'Asp per recuperare proventi che l'ente di via cortese ascrive a doppi pagamenti dunque regge e la clinica resta immersa in un mare di guai. Ieri il management è stato nuovamente ricevuto in tribunale ma la situazione non si sblocca e il Presidente del Consiglio d'Amministrazione liquida tutto con un laconico nessuna novità, siamo col ghiaccio in testa. Intanto lo svuotamento della clinica, seppur lentamente, prosegue e l'ultimo bollettino parla di 17 ricoverati, di cui ancora 4 da operare. La situazione è quindi in costante e inesorabile peggioramento. Si salva soltanto il rapporto fiduciario tra medici e malati come dimostra il rifiuto di 4 persone a essere trasferite al policlinico che aveva offerto la propria disponibilità alla presa in carico. Ieri è dunque andata in scena la rappresentazione plastica del credito di cui la struttura gode ancora dopo 9 mesi di crisi ma se da un lato ciò gratifica i vertici della clinica dall'altro rimette ogni decisione in mano al Direttore Sanitario. Antonio Soccorso Capomolla sta dunque camminando sui carboni ardenti stretto come in una morsa fatta di etiche e rischi mentre a complicare il tutto c'è pure il periodo clou delle ferie estive. Torna in salita anche la trafila per la firma sul contratto 2020 perché la convocazione ancora non c'è e pare essere sfumato pure il gioco della compensazione tra i fondi pignorati e quelli da erogare. In pratica l'impianto regge ma le somme non darebbero affatto luogo ai quasi 3 milioni di euro paventati per rimettere in pista la ripartenza del Sant'Anna Hospital. No, perché al dramma si è giunto un mistero che di milioni ne vale quasi 2,5. L'ASP non sarebbe disposta a erogare somme riguardanti interventi che la clinica ha eseguito ma che l'ente non riconoscerebbe in virtù del fatto che nel periodo interessante l'unità di terapia intensiva coronarica non era in funzione. L'UTC, la struttura attorno al quale ruote per l'inchiesta a cuore matto, torna dunque di scena e nonostante il direttore sanitario del Sant'Anna Hospital continua a battere cassa la situazione cristallizza una ripartenza dai tempi incerti che dovrebbe a questo punto essere calibrata su poco più di 500.000 euro. I conti dunque non tornano ed è per questo che rispunta l'ipotesi di una ricapitalizzazione interna basata sulla ricerca di un partner esterno alla quale la clinica starebbe lavorando per provare a rinviare lo spauracchio di un'altra sospensione almeno fino al 12 settembre data di scadenza del mandato conferito alla trea decommissariale che guida l'ASP. Giornata contro il razzismo a Gasperina ospiti di un convegno sul dialogo tra le religioni diverse presso i giardini di Palazzo Manni Monsignor Pino Silvestre l'imam Khalid El Sheikh e il pastore valdese Jeanne Hansen L'impegno per un mondo di pace il dialogo interreligioso è sicuramente uno dei tasselli più importanti per arrivare a questo obiettivo Sì, è il tassello centrale perché da là parte tutto perché se noi non siamo in grado di dialogare di avere una visione inclusiva del mondo come vogliamo affrontare anche i grandi problemi del mondo tipo il cambiamento climatico la catastrofia climatica che si sta avvicinando e le religioni possono essere fermento perché Bertolt Brecht nel suo romanzo Signor Coiner dice parliamo del tuo Dio e l'altro risponde se la tua vita cambia a seconda del tuo Dio vale la pena se no, no perché la religione deve cambiare indirizzare e aprire ad una visione inclusiva del mondo che non esclude nessuno Sì diciamo che abbiamo caratterizzato l'azione amministrativa in questi anni anche con questo aspetto riteniamo un punto di qualità notevole a prescindere per chi fa politica dagli aspetti elettorali questa è una cosa che la società attuale ci richiede la storia ci chiede e noi dobbiamo farla sono dei valori che non sono discutibili penso che questo paese abbia dimostrato in questi anni di sapere fare accoglienza saper fare integrazione o interazione come meglio vogliamo dire e anche l'iniziativa di questa sera prosegue diciamo un un criterio che abbiamo utilizzato in questi anni con lo Sprarra dove tante culture religiose si sono messe a confronto e hanno camminato sulla stessa strada questo impegno lo portiamo anche in questa giornata dove la Proloquo e la Fondazione Città Solidale hanno organizzato questa giornata contro il razzismo noi ci siamo inseriti con questo convegno dove tre personalità di tre religioni diverse ci diranno che ci sono degli aspetti comuni dei valori appunto universali quali la tolleranza la pace la fratellanza che appartengono a tutti noi alla nostra società e quindi è bene rimarcare che le religioni non sono differenze ma ci possono essere tanti punti in comune i punti d'incontro ci sono come lei ha detto perché parlare di religione no? non significa riferirsi alla pratica come intendiamo noi delle vecchiette che vanno in chiesa ma parlare di religioni significa invece parlare di ciò che fa parte dell'essenza dell'uomo dal punto di vista antropologico ontologico no? il sentimento religioso è qualcosa di innato nell'uomo che va alla ricerca della verità e va alla ricerca di una relazione con il trascendente quello che va al di là di quello che si vede e si tocca no? e quindi da questo dobbiamo partire per trovare i punti d'incontro cioè questo desiderio del trascendente dell'altro con la maiuscola no? che è essenziale fa parte della stessa natura dell'uomo e tutte le religioni sono un cammino di ricerca di questo trascendente tant'è vero che Paolo VI diceva che le religioni sono le mani tese verso Dio perché vanno alla ricerca di Dio dell'unico Dio quindi se vanno alla ricerca dell'unico e vero Dio non possono dividere perché si riconosce in Dio l'unica origine l'unico creatore ecco questo è il principio fondamentale per creare una società in cui possa regnare la pacifica convivenza che va al di là della discriminazione raziale della discriminazione religiosa e poi l'altro aspetto è quello del diritto umano fondamentale della scelta della libertà religiosa che fa parte appunto della stessa costituzione della persona umana su questi punti dobbiamo andare avanti per poter trovare un dialogo e confrontarci sì questa è la cosa principale perché ormai la radice nostra è una radice unica il Dio nostro è il Dio unico tutti diciamo sono discendenti del profeta Abramo le tre regioni monetariste per eccellenza credono nello stesso Dio unico e questo è che ci accomuna giustamente ci sono delle piccole differenze però queste differenze sono dovute magari ai tempi magari alla cultura del posto ma non sono motivi per le divisioni oppure per le litigie oppure per le guerre anzi le religioni sono diciamo sono scese per unificare per portare la gente sulla strada di Dio la strada di Dio è la strada della pace della comunione della strada della serenità quando uno perde la strada oppure utilizza la religione per la finalità sua allora lì troviamo persone che usano la religione in modo improprio e vediamo la conseguenza quelle che viviamo oggi purtroppo ci sono tante persone che usano la religione per nome proprio il nostro incontro qua giusto per dare anche chiarezza che la religione è la religione di Dionico e siamo tutti portatori del stesso messaggio e dobbiamo diffondere questo tipo di cultura questo tipo di approccio così la gente piano piano magari capiscono che non ci sono differenze che ci dividano anzi ci sono delle differenze che ci uniscono perché è una differenza e una ricchezza sì il presidente dell'associazione Darra Salam di Catanzaro sì certo la religione è anche unione quindi si parte sempre da questo punto di partenza è importante avere questi incontri perché eccoci si può insomma spiegare alla gente le differenze nella religione però poi ci si rende conto che alla fine come diceva prima l'imam siamo tutti comunque gli eredi di Abramo e quindi siamo tutti legati a quel filo conduttore è sempre Dio che parla agli uomini tramite i profeti posso chiedere la sua esperienza di una religione che subentra qui in Italia rispetto a una sorta di cattolicesimo che era quasi monocolore sì ovviamente come tutti in questo territorio comunque in Italia ereditiamo la nostra religione quindi ereditiamo la religione cattolica io mi sono spinto oltre perché proprio grazie all'imam siamo stati tempo a parlare lui mi ha illuminato da questo punto di vista io sono andato a studiare tutte le religioni prima della religione cattolica e poi chiaramente arrivando all'islam quindi mi sono ho iniziato a conoscere la religione che è quella cattolica che prima non conoscevo pur essendo cattolico e poi chiaramente sono arrivato al cambiamento alla decisione di cambiare religione cioè quella dell'islam ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco ed ora Gasperina con l'iniziativa della Proloco nell'ambito della manifestazione estiva organizzata dall'associazione Proloco in collaborazione con la fondazione Città Solidale Ollons Sai con il patrocinio dell'amministrazione comunale è stata realizzata in via Ruga Cavarcatura l'opera dell'artista Jorit nella giornata contro il razzismo sentiamo in merito la presidente della Proloco Marika Messina e a seguire l'artista Jorit Jorit è un artista di fama internazionale che noi abbiamo il piacere di ospitare oggi qui a Gasperina le sue opere sono riconosciute in tutto il mondo tant'è che ha fatto opere in Russia a New York quindi è proprio un onore averlo qui oggi addirittura vi posso dire che come artista è riconosciuto anche dai critici d'arte infatti sarà il nuovo artista che noi troveremo anche nei libri di storia dell'arte è stato riconosciuto anche dai critici come personaggio che interpreta l'arte come potete vedere oggi con questi murales e dipinge e fa sì che ci siano questi temi attuali come quello che stiamo trattando oggi del razzismo anche temi forti contro la violenza ecco lui affronta questi temi in questo modo come è nata questa idea allora l'idea è nata da un nostro amico che lo conosce diciamo ha avuto modo di conoscerlo e noi volevamo trattare questo tema del razzismo dare un'impronta forte ecco diciamo anche alla nostra comunità l'abbiamo contattato e lui con molto piacere ha accettato il nostro invito di venire oggi qui ad esprimere questo murale che lo vedremo terminato e sarà bellissimo anche perché Gasperina è il paese dell'accoglienza certo e noi abbiamo la casa di accoglienza dove ci sono questi ragazzi c'è forte questo senso di integrazione con questi ragazzi tant'è che al museo ci sarà anche una mostra ideata dai ragazzi del centro proprio nei temi della discriminazione del razzismo questo diciamo ecco è stato il tema fondamentale di questa giornata proprio per improntare diciamo nella popolazione questo senso di accoglienza questo senso di integrazione e togliere questi brutti canoni diciamo che ci vengono imposti anche dalla società stessa ecco allora io sono Yorit sono un artista di Napoli sono contento di essere qua a Gasperina questa bellissima iniziativa organizzata alla Proloco di Gasperina appunto e l'opera è un occhio come potete vedere e diciamo poi ci saranno dei messaggi nascosti che chiariranno il significato dell'opera oggi è la giornata contro il razzismo sì contro il razzismo perché in un paese come Gasperina ma un po' in tutto il sud Italia tantissime persone sono costrette a emigrare e andare a cercare lavoro fuori perché purtroppo al sud come spesso succede non ci sono occasioni di lavoro e come molto spesso succede nel continente africano ma anche da altre parti del mondo le persone sono costrette a emigrare e a venire a cercare fortuna in altre zone in questo caso in Italia quindi noi dobbiamo essere solidali con le persone che sono costrette a emigrare perché ci siamo passati anche noi e poi una battuta come diceva Thomas Sankara che è un grande rivoluzionario africano disse noi non dobbiamo prendercela con chi emigra ma con chi costringe le persone ad emigrare come è nata questa passione questa passione è nata quando avevo 13 anni ho iniziato a dipingere per strada per cercare un po' un senso pure io sono della periferia di Napoli e diciamo c'era poco da fare i miei amici prendevano brutte strade comunque non c'erano molti progetti alternativi e quindi ho iniziato a dipingere e poi mano a mano è diventato anche il mio lavoro l'arte orafa di Michele Affidato tra cinema e cultura intensa estate per l'azienda Michele Affidato che è stata protagonista tra Calabria e Basilicata di due eventi la cui importanza è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale si è concluso il Magna Grecia Film Festival la Ghermes cinematografica giunta alla sua diciottesima edizione che da anni riunisce a Catanzaro le stelle del cinema mondiale l'evento diretto da Gianvito Casadonte ha visto i grandi interpreti del mondo della settima arte sfilare sul red carpet dell'area di Catanzaro Lido e non solo simbolo del festival come accade ormai da anni sono state le colonne d'oro realizzate dall'azienda Michele Affidato un'opera riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo in tanti sono stati gli attori registi e personaggi dello spettacolo ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento quest'anno il premio è andato tra i tanti al regista Peter Greenaway considerato come uno dei più significativi cineasti britannici contemporanei all'attore statunitense John Savage celebre per il film Il Cacciatore a cui il premio è stato consegnato da Antonio Affidato ma anche allo sceneggiatore e produttore Nick Vallelonga vincitore del premio Oscar con Green Book e Paul Eggis regista e sceneggiatore inglese vincitore dell'Oscar nel 2006 e del Davide di Donatello grazie al film Crash non sono poi mancati gli artisti italiani lo showman Paolo Bonolis e il giornalista ed autore televisivo Giovanni Minoli hanno ricevuto la creazione di Affidato la colonna d'oro è stata poi assegnata a personalità di spicco del panorama calabrese su tutti il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri lo scrittore Gioacchino Criaco e l'antropologo Vito Teti per quanto riguarda i premiati Francesco Patanè per il cattivo poeta e Gineva Francesconi per regina si sono giudicati i premi quali migliori attori protagonisti il riconoscimento per la migliore opera prima è stato assegnato a Gianluca Iodis per il cattivo poeta e quello per la migliore regia a Giovanni la parola per il mio corpo vi seppellirà per la migliore sceneggiatura il premio è andato ad Antonio Pisu per Est mentre quello del pubblico è stato attribuito ad Alessandro Grande per regina chiuso il MGFF altro evento che ha visto protagonista l'azienda mi che l'ha affidato Orafo è stato il premio Eraclea che si è tenuto in Basilicata nella splendida cornice dell'anfiteatro del Danaide Resort di Scanzano Ionico il format ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone è che da dieci anni premia personaggi lucani che si distinguono in vari ambiti dalla cultura allo sport al mondo dell'imprenditoria e del lavoro tra i premiati di questa edizione il generale Francesco Paolo Figliuolo il manager della Ferrari Benedetto Vigna il cantautore Albano Carvisi la giornalista Angela Mauro l'attore Rocco Papaleo il nuotatore medaglia d'oro agli ultimi europei di Budapest Domenico a Cerenza l'imprenditore Costantino Di Carlo il giornalista d'opinione Gianluigi La Guardia ed il medico Giulio De Stefano per l'evento l'orafo Michele Affidato ha realizzato una scultura in argento completamente inedita che raffigura l'antico eroe greco Eracle che sconfigge il temibile leone di Nemea scena che rimanda allo stemma del comune di Policoro dove sorgeva l'antica città magno greca lucana di Eraclea Un premio al talento del giovane reggista Gianluca Sia Un riconoscimento al talento ai tanti e meritati successi ma soprattutto il viatico per una carriera ancora più brillante l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha celebrato con una serata evento al Teatro Impero il regista Gianluca Sia pluripremiato in Italia e all'estero per il suo film più recente Io resto qua al giovane cineasta è stata consegnata una targa che esprime tutto l'orgoglio della città delle Preserre per un figlio tanto illustre e capace di una così straordinaria creatività Sì è stato davvero molto emozionante soprattutto stare qui in questo teatro che una volta fu un cinema e per una sera vederlo acceso come vedere il grande schermo ha illuminato per me è stata un'emozione grandissima poi con le mie opere ed essere qui celebrato nella mia terra mi riempie veramente di orgoglio e vi ringrazio ringrazio chi ha voluto questa serata Ben visibile l'emozione di Gianluca Sia nel ricevere il riconoscimento da parte del sindaco Domenico Donato e dalla consigliera delegata alla cultura Pinarizzo fortemente impegnata nell'organizzazione dell'iniziativa Beh sì era stasera doveroso celebrare il nostro Gianluca Sia il suo percorso cinematografico cominciò da giovanissimo da ragazzo possiamo dire quindi la sua esperienza anche con le scuole ha affrontato tematiche sociali molto importanti fino ad approdare a questo bellissimo film che lo ha portato sulle palcoscenici e sui red carpet di tutto il mondo perché da Los Angeles a Toronto a Berlino poi in Italia e quindi e ancora continua a mietere a mietere successi ma noi gli auguriamo soprattutto di continuare su questa su questa strada perché questa è la sua passione quindi gli auguriamo tutto il bene del mondo e tantissimo successo Sul palco anche la scrittrice Giulia Fera a testimoniare la simbiosi tra uomini e donne di cultura che con le proprie opere rendono quotidianamente omaggio alle proprie radici chiaravallesi un pubblico numeroso ha assistito alla manifestazione che si è protratta per oltre un'ora brevi proiezioni hanno accompagnato il racconto intervista del regista che in un talk ha descritto il cammino compiuto nell'arco degli ultimi 20 anni per trasformare una passione adolescenziale per le telecamere in una professione per la vita dalle prime sperimentazioni andate in onda sulle televisioni locali alla ribalta mondiale Berlino Atene Los Angeles di Io resto qua la strada percorsa è stata davvero lunga ma sia ha tenuto ben saldo il legame con la propria terra d'origine qualità evidenziata nei commenti degli amministratori comunali che hanno fortemente voluto dedicare una tappa significativa del programma estivo di eventi a un figlio illustre di Chiaravalle che onora l'intera comunità con il suo lavoro è una cosa meravigliosa una serata bellissima che abbiamo voluto dedicare a Gianluca Sia un giovane regista chiaravallese del quale siamo tutti orgogliosi e tutti fieri io spero che possa fare veramente una progressione di carriera in questo mondo d'arte che è il cinema dove secondo me troverà un suo spazio con moglie e figlio al seguito anche loro sul palco dell'impero a festeggiare si ha raccolto gli applausi finali di tutto il teatro a conclusione di una serata dinamica e coinvolgente Olivadi 12 agosto festeggiamenti per il 25esimo anniversario dell'icona San Rocco si è dato il via alla macchina organizzativa guidata dal signor Federico Comito per i festeggiamenti del 25esimo anniversario dell'icona San Rocco Olivadi 12 agosto con la presenza del Gran Complesso Musicale Municipale Città di Francavilla Fontana Brindisi diretto dal maestro professore Ermir Crantia programma della giornata ore 9 e 30 sfilata per le vie cittadine del Gran Complesso Musicale Città di Francavilla Fontana ore 11 e 15 marce sinfoniche in piazza Beato Antonio ore 18 e 15 breve sfilata banda musicale alle ore 18 e 45 arrivo all'icona San Rocco con celebrazione della Santa Messa Solenne dal parroco Don Gregorio Corea ore 21 al teatro Sant'Elia di Olivadi il concerto banda Francavilla Fontana presenterà la serata la professoressa Anna Maria Colabraro tutta la cittadinanza è invitata si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e che collaboreranno alla buona riuscita di questo evento si ringraziano Medic Air Nuove Energie Gas e Luce Adrianelli Antonio Autotrasporti ed ora un appuntamento da San Vito l'associazione culturale e l'Accademia Italia in Arte nel Mondo presenta la mostra del maestro Gregorio Cosentino in collaborazione con Insieme Si Può la mostra si può visitare dal 13 al 22 agosto dalle ore 9 alle 12 e dalle 20 alle 23 presso la biblioteca comunale di San Vito sullo Ionio Lo scopro